Grazie, grazie Alberto per avermi invitato. Possiamo partire dall'osservazione che il capitalismo contemporaneo ha una preoccupazione, probabilmente senza precedenti storici, con la natura del valore. Forse non solo il capitalismo, ma anche quelle forme di pratiche che in qualche modo si svolgono in opposizione, un'autonomia ai circuiti di valorizzazione capitalistici, come le varie forme di produzione peer-to-peer, ma anche le stesse pratiche come qui a Macao, sembrano mostrare la stessa preoccupazione con la questione del valore. Nel senso che non si sa fondamentalmente più che cos'è il valore, quanto valgono le cose e che cosa deve contare come qualcosa che ha valore. Questa è una preoccupazione che si mostra in tutta una serie di modi. da un lato a livello culturale, pensiamo a successi come Game of Thrones, come si chiama in italiano? Trono di spade? Trono di spade, eh? Che in grandi modi può essere in qualche modo letto come una rappresentazione fantasy televisiva in tutta una serie di questioni legate alla politica del valore immateriale, l'identità di brand, l'appartenenza ai clan corporate, eccetera. Ha dei meccanismi un pochettino più concreti, come il processo ormai molto diffuso di algoritmitizzazione, si può dire così in italiano, algoritmitizzazione del presente, nel senso che c'è un processo diffuso tramite la quale tutta una serie di aspetti della vita quotidiana vengono adesso rimediati tramite media sociali ed altre piattaforme, ed una volta rimediati in formato digitale, messi in relazione calcolabile fra di loro. Pensiamo adesso all'estensione di, basta guardare un po' le politiche di acquisto da parte delle grandi società social, Facebook adesso da un lato comincerà a trasmettere accesso all'internet da satellite mirato alle persone principalmente in Asia e in Africa che ancora non hanno accesso e questo ovviamente vorrà dire che il loro accesso all'internet, quello che fanno sull'internet verrà in qualche modo rappresentato e misurato da parte di Facebook, cosa che può poi, dati che possono poi essere utilizzati per creare dei prodotti vendibili sui mercati finanziari in termini di cartolarizzazioni, di rischi, di sanità, di condotta di vita, di virtù, di creditizio eccetera. Pensiamo alle politiche di Apple che adesso mirano fortemente verso l'espansione, diciamo in termini di biosensori, Apple sta lasciando la HealthBook, un'applicazione che sarà in grado di integrare tutta una serie di misurazioni che vanno un po' da livello di mobilità fisica, sensori di vari valori nel sangue, battito cardiaco eccetera eccetera, creare dei profili basati su dati biometrici, della virtù sanitaria di varie persone che ovviamente sono delle indicazioni che hanno della rilevanza molto importante per tutta una serie di decisioni di valore economico che vanno un po' dall'assicurazione sanitaria al valore del forza lavoro eccetera eccetera. Possiamo aggiungere anche il processo di mechiziazione o la diffusione di indicatori di performance per quanto riguarda il lavoro immateriale che si è diffuso negli ultimi decenni enormemente principalmente nel mondo anglosassero, un po' meno in Italia perché il lavoro immateriale in Italia resta in qualche modo bizantinamente resistente a queste pratiche di razionalizzazione eccetera. Però specialmente negli Stati Uniti e nell'Inghilterra questo processo è molto forte dove in qualche modo si tenta di misurare l'immisurabile tramite varie forme di indicatori di performance, di qualità, che va un po' dall'output scientifico alla qualità della visita dentistica eccetera. e quindi c'è questa enorme diffusione di tentativi di stabilire relazioni di equivalenza fra entità che prima non erano considerate in qualche modo misurabili l'uno contro l'altro. e quindi c'è un tentativo di in qualche modo estendere la presa, la portata del processo di valorizzazione capitalistico e non perché stessa cosa succede in gran parte anche dei reti peer-to-peer eccetera dove ci sono tutta una serie di tentativi, varie forme di nuove contabilità, nuove forme di misure e di anche lì insomma in qualche modo stabilire un'idea del valore della produttività anticapitalistica o non capitalistica quello che è. Però un tentativo diciamo abbastanza esteso di stabilire le relazioni di misurabilità e di compatibilità e con questo estendere diciamo le prese di una relazione di valore che ancora rimane abbastanza poco chiara nel senso che non si sa ancora molto bene verso quale tipo di formulazione del valore queste nuove forme di misurazione vanno a portare. Il motivo di questa crisi del valore in un certo senso perché c'è un crisi del valore nel senso che le vecchie forme di valorizzazione e misurazione non funzionano più molto bene, nel senso che non rappresentano più molto bene i veri processi di produzione di ricchezza. Ovviamente è qualcosa che ha a cofare con la trasformazione di quei processi di produzione di ricchezza stessi ed è qui che ha luogo, che comincia a essere interessante riflettere un po' intorno al concetto di pubblico perché in gran parte si potrebbe dire che dentro all'economia capitalistica e fuori dall'economia capitalistica c'è una sorta di divenire pubblico della creazione della ricchezza che è un processo che ha una storia abbastanza lunga ovviamente ma che viene radicalmente accelerata con l'impatto delle tecnologie di informazione e comunicazione digitali. e quindi c'è una sorta di spostamento successivo di una parte crescente della produzione di ricchezza dalle organizzazioni dotate con le loro ierarchie, con i loro sistemi di controllo e misurazioni ha tutta una serie di pubblici che si manifestano in vari eventi, in varie instanze del sociale i primi pubblici forse produttivi in questo senso si possono identificare già dentro alle grandi società dentro alle corporation che negli anni 70 e soprattutto negli anni 80 cominciano a stimolare l'auto organizzazione del lavoro del sapere come modo di accelerare e rinforzare la sua portata produttiva, innovativa, creativa eccetera però abbastanza presto si verificano anche diciamo uno spostamento del valore verso dei pubblici che risiedano più strettamente dentro al sociale nel senso che le relazioni sociali, normali, quotidiani cominciano ad essere in qualche modo creatrici di valore uno dei primi esempi di questa cosa ovviamente è la crescita dell'importanza del brand della marca che avviene a partire dagli anni 90 in tutta l'economia globale e che si accompagna ad una conoscenza sempre più diffusa che il vero valore della marca non è tanto una questione di design, pubblicità eccetera ma si fonda sulla capacità di coinvolgere un pubblico di consumatori che in qualche modo si dedicano anche appassionatamente a questa marca stessa alle conversazioni intorno alla marca eccetera oggi ovviamente un secondo passo in questo senso che forse è più rilevante rispetto alla situazione di cui stiamo parlando adesso e dalla presentazione della ricerca poi di che ha condotto Alberto insieme a noi e insieme a Macao sul fuorisalone è ovviamente l'integrazione della creazione pubblica del valore dentro all'economia della città esperienziale o città creativa che a Milano ovviamente ha una storia abbastanza particolare perché il secondo miracolo milanese o il Milano da bere negli anni 80 quello che segue dopo la deindustrializzazione di Milano viene guidata da nuove forme di creazione pubblica del valore abbiamo l'industria della comunicazione intorno ovviamente al miracolo berluscoliano il fatto che Berlusconi è riuscito a quadruplicare la portata del mercato pubblicitario italiano durante i primissimi anni 80 e quindi questo da nascita alle televisioni private a tutte le società di produzione di contenuti, pubblicità, comunicazione che diventa diciamo un pilastro fondamentale della Milano da bere negli anni 80 ma poi intorno a questi c'è anche ovviamente le industrie creative strettamente parlando la moda e il design il successo della moda italiana negli anni 80 soprattutto la moda milanese negli anni 80 si fondava in gran parte sulla capacità di connettere da un lato delle tradizioni artigianali di produzione materiale cioè i distretti industriali di produzione tessile italiano con una creatività pubblica dei pubblici urbani di innovazione affettiva, di stili di vita e di forme espressive che avvenivano dentro la città stessa quindi in questo modo uno potrebbe dire anche che già la moda italiana in qualche modo a partire già da Fiorucci negli anni 70 con poi Armani, Dolce e Gabbana eccetera negli anni 80 è uno dei primi esempi nel contesto italiano di una messa al lavoro di quella creatività pubblica che in qualche modo si traspira in questi reti abbastanza diffusi dentro al contesto urbano e la capacità di trasformarlo poi negli anni 80 non tanto in brand ma in innovazione materiale cioè innovazione stilistica innovazione in termini di prodotti di vestiti da vendere ovviamente questa fase è un po' prima fase della moda italiana dove in qualche modo le società di moda italiana fanno soldi creando mercificando l'innovazione affettiva della città stessa cioè producendo quei tipi di vestiti che la popolazione urbana dalle quali prendono ispirazioni vorrebbero in qualche modo indossare e poi esportando quei vestiti con uno stile di vita anche annesso al resto del mondo prima a New York e poi da New York diciamo ad un livello globale quella prima fase diciamo della moda italiana come qualcosa che trasforma una creatività urbana pubblica in dei prodotti materiali viene poi seguita da una fase dove la funzione di questa produttività pubblica diventa quella di generare non tanto prodotti materiali vestiti ma brand perché tutta la moda italiana negli anni 90 intraprende un processo di finanziarizzazione dove le grandi società di moda mirano a fare soldi non tanto con la vendita di vestiti ma con la creazione di brand da valorizzare principalmente sui mercati finanziari e in questo senso ovviamente la strategia di formazione di pubblici e formazione di creatività pubblica da parte di questa società di moda cambia non è più concentrata principalmente sulla società di Milano si parla più di un pubblico diffuso si parla si cerca di tentare un pubblico diciamo meno meno denso meno strettamente connesso meno basata sull'interazione più basata sul riconoscimento simbolico totemico del brand eccetera partono tutta una serie di estensioni gli alberghi di lusso musei di arte bulgari eccetera che in qualche modo mirano a creare queste forme di coinvolgimento like il punto è che e qui portiamo un po' al fuorisalone che con questo processo di finanziarizzazione che in qualche modo per la gran parte delle grandi marche italiane falisce perché finiscono per essere eccessivamente indebitati e aver scommesso su un cavallo in qualche modo perdente la creazione di valore nell'economia creativa milanese si sposta un po' dall'industria di moda e di design verso la capacità di generare eventi cioè essenzialmente il valore della creatività del Milano società creativa adesso funziona su due o tre mercati diversi il mercato principale ovviamente è quello immobiliare la capacità di innescare dei processi di interazione sociale di un certo tipo è riuscito ad alzare notevolmente i valori immobiliari principalmente nel cosiddetto quadriangolo della moda ovviamente nel centro di Milano via Mancun Napoleone eccetera eccetera che è diventato negli ultimi decenni un nuovo destino di investimenti da parte degli elite emergenti dei paesi in via dei brics dei paesi in via sviluppi russi cinesi Arabia Saudita Turchia eccetera va molto a comprare un loft nel quadriangolo della moda ma anche altri quartieri come ovviamente via Tortona Savona in Navigli eccetera dove in qualche modo la presenza di una di un'effervencenza pubblica di natura in qualche modo giusta in qualche modo congrua a questa immagine che si vuole dare porta supporta aiuta dei processi di gentrificazione poi ovviamente ci sono il mercato dei master dell'educazione di moda e design cioè gran parte dell'industria della moda in Italia a Milano adesso gran parte dei soldi che si realizzano hanno a che fare con la capacità di vendere dei master in fashion shopping eccetera eccetera ai figli degli elite dei paesi emergenti a 20.000 euro all'anno e questo ovviamente implica anche la capacità di scuole come Laba Domus Marangoni IED eccetera di riuscire a stare un po' sulla cresta dell'onda di particolari tipi di effervescenza di produttività pubblica e poi ovviamente con l'altra parte sono i grandi eventi settimana della moda fuori salone eccetera che sono anche grandi creatrici di valore per tutta una serie di parti che vanno dai padroni di casa che affittano appartamenti locali spazi di esposizione alberghi ristoranti eccetera eccetera e dove ovviamente come lo studio che poi si presenterà in pomeriggio l'effervescenza dei visitatori i milioni di fotografie Instagram che vengono prodotti la densità delle masse in viso la tortola la savona in qualche modo contribuisce in qualche modo alla creazione di questi tipi di valore in qualche modo perché ovviamente uno dei punti fondamentali qui è che non si sa in che modo non è diciamo misurabile non sappiamo come misurare il contributo di una singola fotografia Instagram al valore realizzato nel salone del mobile questa sorta di misura non c'è ancora e quello ovviamente è un punto importante perché penso che prima di cominciare prima di cominciare seriamente a a criticare questi tipi di prassi prima di cominciare a parlare seriamente di forme di ridistribuzione del valore eccetera eccetera bisogna in qualche modo prima definire in che cosa consiste il valore bisogna prima trovare una sorta di misura perché una forma di misura una legge del valore è in parte ovviamente uno strumento diciamo della sussunzione capitalistica di processi sociali nel senso sussunzione nel senso che questi processi quando diventano misurabili possono anche essere in qualche modo inclusi dentro all'apparato di riproduzione del capitale però la misura è anche uno strumento della critica quando si ha una misura è possibile cominciare a parlare di giustizia e cominciare a parlare di etica di redistribuzione in un modo non diffuso ma più concreto con argomenti più forti in qualche modo e quindi il punto è un po' questo per questo penso anche che la ricerca che è stata fatta può essere un punto di partenza anche utile in questo lavoro che siamo un po' tutti alla ricerca di una definizione del valore ossia quelli che in qualche modo cercano di razionalizzare la capacità di valorizzare dei processi pubblici di comunicazione e interazione ma anche questi che in qualche modo come noi cerchiamo degli orizzonti politici nuovi per in qualche modo ripensare dei concetti di ridistribuzione giustizia etica critica e tutte queste cose che ormai sono diventati abbastanza abbastanza vuoti e abbastanza deboli come termine grazie 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 grazie